Al tour ci saremo anche noi di Lacroix per spiegarvi tutto quello che non riusciremo a spiegarvi nei pochi secondi di un video e in particolare potremo confrontarci sulle soluzioni di Lacroix nel mondo del telecontrollo per il settore delle acque refue e delle acque potabili. In particolare presenteremo la nostra RTU della famiglia S4W e i nostri data logger per applicazioni su acque potabili LS o per applicazioni su acque refue LT. Dunque vi aspettiamo!